La Lube ci ha abituato a grandi reazioni dopo ogni stop, mancano tre giornate alla fine del girone d'andata, darete il massimo? Assolutamente sì, come hai detto bene tu mancano soltanto tre giornate, siamo un po' nel mucchione intorno alla quarta, quinta posizione con tante squadre vicine, quindi dobbiamo essere molto concentrati nell'affrontare queste partite che ci rimangono perché la Coppa Italia è un obiettivo fondamentale per la società, per la comunità e quindi vogliamo riscattarci dopo una brutta sconfitta contro quando prende in casa. Prossimo impegno, difficile sul campo di Cisterna, come vedi questa partita? L'anno scorso la partita Cisterna ci ha insegnato che non possiamo mai sottoportare nessuno, la partita è andata male in quell'occasione, quindi proprio coach di questa esperienza dell'anno passato, spero che questa volta sarà un risultato di inizio. La Champions League è un altro grande obiettivo della Lube, vi può togliere energie o vi può dare entusiasmo visto che siete primi nella Poulet? Beh, giocare la Champions League è sicuramente entusiasmante, è una massima competizione europea, quindi tutti i ragazzi sono molto carichi nell'affrontata. I viaggi, logicamente, sono leggermente, diciamolo, scomodi, ma come viaggiano gli altri viaggiamo anche noi, quindi bisogna soltanto sapersi adattare e cercare di non perdere il focus anche sul campo.